ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso bordo decorativo a rilievo con questo bellissimo effetto a rose come se ci fossero le rosine lungo tutto il progetto questa decorazione vi permette andare a abilire anche un progetto più semplice semplicemente facendo questa aggiunta lo possiamo andare appunto applicare lungo tutto il nostro progetto andare applicare appunto alle estremità dei nostri progetti dopo andare procedere con il motivo più semplice e il nostro progetto comunque risulterà molto particolare lo possiamo andare applicare anche ai nostri polsini in questo modo guardate che è meraviglia davvero molto molto bello è facilissimo da realizzare qui noi abbiamo un esempio in cui abbiamo unito due lavorazioni decorativi qui abbiamo il bordo con l'effetto pilice abbiamo punto effetto pilice unito a questi nostri fiorilini e guardate che bell'effetto che vi crea già con questa partenza possiamo andare a realizzare una bella canottiera non vi preoccupate che anche il tutorial riguardante punto pilice uscirà sul nostro canale nel tutorial di oggi invece ci soffermiamo sulla realizzazione delle delle rose molto belle e molto facili per il nostro esempio per il nostro campioncino noi dobbiamo andare a avviare un 13 mali e anche per la lavorazione dobbiamo ricordarci che dobbiamo andare a avviare un numero dispari di mali perché questo ci permette poi andare ricavare i motivi finiti dall'inizio alla fine senza spezzare avviamo 13 mali noi avviamo con metodo alla nordica ecco qui abbiamo avviato i nostri 13 mali ci vuole sempre il numero dispari delle mali ora il nostro primo ferro è il nostro ferro di base e lo andiamo a lavorare tutto a diritto partiamo con la nostra lavorazione il nostro motivo è multiplo di due mali la male di vivagno spostiamo e partiamo subito con la realizzazione del nostro fiore noi prendiamo la nostra maglia entriamo nella sua asola in questo modo e andiamo a ganciare da dietro una maglia abbiamo creato una maglia però non facciamo cadere l'asola rientriamo ora una seconda volta da davanti guardate come viene illustrato nel video sono già due maglie da una entriamo una terza volta da di dietro come abbiamo fatto la prima sono tre rientriamo una quarta volta da davanti come abbiamo fatto la seconda sono quattro ora dobbiamo andare a ricavare la quinta da dietro ed ecco che abbiamo ricavato la quinta quindi da una maglia ne abbiamo ricavato cinque entrando da dietro da davanti da dietro nella stessa asola solo ora che abbiamo ricavato cinque maglie da una facciamo cadere l'asolina che abbiamo utilizzato per questa lavorazione ora queste cinque maglie ricavate li andiamo rispostare sul ferro di sinistra ora noi con il ferro di destra dobbiamo entrare in asolo di queste cinque maglie appena ricavate e fare una diminuzione quindi entriamo in questo modo come vedete adesso entriamo agganciamo il filo e da cinque ne creiamo una quindi sullo stesso ferro noi abbiamo fatto aumenti e nuovamente diminuzione e facciamo cadere tutte le nostre maglie ora per concludere dare completamente la forma del nostro fiore dobbiamo lavorare la seconda maglia della coppia a rovescio facciamo cadere il filo e lo lavoriamo a rovescio che ci permette dare anche la forma e inclinazione del fiore ed ecco che abbiamo fatto il primo fiore è facilissimo come avete visto quindi facciamo anche la seconda insieme prendiamo di nuovo la coppia delle nostre due maglie con la prima andiamo creare il fiore quindi entriamo nell'asola della maglia cinque volte prima da di dietro poi da davanti due terza volta da di dietro agganciamo il filo ricaviamo la terza maglia quarta maglia e la quinta maglia da dietro come siamo partiti ora facciamo cadere l'asola utilizzata per la realizzazione di cinque maglie le maglie appena realizzate le andiamo rispostare sul ferro di sinistra ora con il ferro di destra andiamo fare la diminuzione quindi entriamo in asola di queste cinque maglie appena spostate e ricaviamo un'unica maglia è un po' brigoso però l'effetto è veramente bello e lo dobbiamo fare solo per un nostro ferro per il nostro bordo quindi ne vale la pena per il risultato finale poi concludiamo la coppia con la lavorazione della maglia a rovescio ed ecco che abbiamo già realizzato due fiorellini è facilissimo quindi così dobbiamo andare procedere per tutto il nostro bordo con la prima maglia creiamo dei aumenti con la seconda maglia invece andiamo fare il semplice rovescio che ci permette dare la forma direzione al nostro fiore grazie a tutti guardate siamo arrivati al fine del ferro e anche qui prima della male di vivanio noi dobbiamo andare a concludere il ferro con il nostro fiore ed ecco il perché del numero gli spari delle mali quindi anche ultima va conclusa con il fiore quindi entriamo cinque volte nella stessa asolina e ricaviamo cinque malie successivamente le malie li spostiamo sul ferro di sinistra scusatemi e con ferro di destra invece andiamo a fare la diminuzione quindi entriamo in asola di cinque malie e da cinque ne andiamo a ricavare un'unica malia e facciamo l'ultima malia a rovescio ed ecco che abbiamo concluso primo ferro che parte dal fiore e finisce con il fiore grazie al numero dispari delle malie nonostante che il motivo sia il numero pari di due maglie ferro di ritorno invece lì dove abbiamo il fiore andiamo a lavorare una maglia a rovescio lì invece dove abbiamo la maglia normale facciamo una maglia lavorata a diritto normale alterniamo così tutto il ferro si sul fiore andiamo fare il rovescio e la male normale andiamo ed ecco qui guardate solo con due ferri abbiamo realizzato questo meraviglioso e particolarissimo bordo con questi rilievi davvero molto belli che hanno la capacità di andare a abilire anche un motivo più semplice anche un semplice rasato dopo aver fatto questi due ferri infatti noi possiamo andare procedere con l'applicazione del motivo scelto per il nostro progetto speriamo che questo tutorial vi è piaciuto che sia stato chiaro e soprattutto che sia stato utile se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altre novità in arrivo e non dimenticate a attivare la campanella per non perdere i nuovi tutorial che escono in più ci potete venire trovare anche su facebook dove abbiamo sia la pagina che il gruppo e anche su instagram grazie che siete rimasti con noi e al prossimo video tutorial